Sta bene e cammina da sola, anche se con l'aiuto provvisorio del girello, la nonnina di 97 anni originaria di perdifumo che è stata sottoposta ad un intervento al femore presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L'anziana donna era stata ricoverata agli inizi del mese di novembre per una caduta dove in seguito ha riportato una frattura al femore. L'operazione chirurgica, molto delicata, è riuscita perfettamente e nonostante la solitudine che l'anziana donna ha dovuto affrontare a causa dell'emergenza covid, ce l'ha fatta. La signora è stata operata dal primario del reparto di ortopedia, dottor Attilio Molinaro, e seguita dall'equip medica composta da sette ortopedici, dagli infermieri e fisioterapisti del reparto del Presidio Vallese.